Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità domenica in occasione della giornata dell'unità nazionale cerimonia all'altare della patria alla presenza del Presidente della Repubblica Martarella. Dalle 7.30 di domenica sono previste chiusura al traffico nell'area tra Piazza Venezia, Piazza Madonna di Loreto, Via del Teatro Marcello, Piazza San Marco e Piazza della Racelli. Da ricordare è sempre domenica la Maratona di Roma con un percorso che interesserà un'ampia porzione del territorio cittadino e una modifica per 73 linee tra bus e tram. Dettagli su romamobilita.it